Musica Eccoci qua, bentrovati, Cucinando con MD, la ricetta quest'oggi che Schefferio preparerà è già lì tra le sue mani, Schefferio, perché lo vedo già all'opera. Ben trovato, Schefferio, buongiorno. Buongiorno, Mary, buongiorno. Io lavoro sempre. Tu lavori sempre, non ti stanchi mai, ma soprattutto vedo tanti ingredienti qui in me la mostra, Schefferio, aiutami. Pochi ma buoni, oggi facciamo un antipastino, un secondo, dipende dalla grandezza in cui lo serviamo. Quindi parliamo di, in questo caso oggi, di una cupoletta, ma la si può definire un tortino di salmone, patate, zucchine e mazzangolle. Certo, c'è di tutto, Chef. Ci sono materie prime importanti. Esatto. Quindi, io nel frattempo sto gradinando, sto grigliando, non gradinando, un po' di zucchine, ma non mi servono grigliate, ma mi servono solo appassite. Perché? Perché devo foderare questo timballetto. Deve esserci questo fondo, questo letto. Infatti, se ci fai caso, quando tagli le zucchine, sono rigide, le vai a mettere nel pirottino e si spezzano. Mentre così, le, vedi, le ammolliamo un poco, le facciamo diventare morbide e flessibili. Quindi, primo step per questo finger, ammorbidiamo. Esatto, ammorbidiamo le nostre zucchine per foderare il nostro pirottino. A mo' di cruce. A mo' di cruce. Quindi quella non ci occorre, ci serve magari per coprire dopo. Quella l'ho fatta per riserva, nel caso si rompeva qualcosa, ero già pronto all'uso. Allora, Mary, ingredienti. Zucchina. Acquadettine piccoli, 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 piccoli. Mary? Questa è una ricetta che prende vita dalla tua ispirazione, Chef, pensando a cosa? Dalle richieste dei miei commensali, Mary. Quindi, mille richieste al giorno. Io cerco di accontentarli a tutti quanti. Intanto mi piace vedere... Allora, facciamo un taglio regolare. Questo taglio, il taglio delle... Esatto. La padella già è bella, rovente. Le inseriamo senza olio. Le mettiamo dopo l'olio. Questa è una patata alla Mary, con tutta la buccia. È sempre difficile tagliare le patate. Allora, guarda, l'ho lasciata con la buccia. Perché? No, perché sono pazzo o perché non ho voglia. Ma... Ti piace quella croccantezza che ti restituisce la buccia? No, sono patate nuove. Nuove. Quindi... Quindi patate nuove in realtà si mangiano con la buccia. Esatto. Perché sono piene di sostanza. Però dicono che sia buono. È buonissima. Le patate, basta poi sciacquarle, sai che... Perdono un po' d'amido. Esatto. Vedi? Andiamo a saltarle. Adesso aggiungiamo un filo d'olio. Giusto un pochino, vedi? Un po' di sale. Quindi zucchine, patate, cubettate, piccole piccole, di modo che possano avere una cottura uniforme ed omogenea. Esatto. E andiamo avanti nella preparazione. Andiamo avanti. Le nostre mazzangole. Ok, terzo step. Sono belle, guarda. Terzo step. Giganti, guarda come sono belle, vedi? Giganti, veramente, chef. Vedi? Allora. Andiamo a sgusciare. Mazzangole e zucchine abbinamento è perfetto, ma con la patata poi diventa ancora più dolce. Ma le patate ci servono come piedi di pino, quindi non andiamo a intaccare nessun sapore, perché, hai visto, l'olio l'abbiamo inserito dopo. Sì. Gli lasciamo la sua croccantezza. Nel frattempo le abbiamo rosolate in modo che la patata e le zucchine si sono belle brasate, vedi? Andiamo a foderare il nostro pirottino. Quindi il primo step è stato realizzato. Salmone affumicato. In questo caso ho usato il salmone affumicato, ma possiamo usare benissimo del salmone fresco. Vedi? Lo foderiamo per bene. Temer contrasto anche di colore, Chef. Eh sì. Poi ti faccio vedere il risultato finale, Mary. Bene. Ogni tortino necessita di due gamberoni. Quindi io in questo caso lo metto crudo, perché dopo il tortino andrà nel forno, per riscaldato, statico o ventilato. Statico lo mettiamo a qualche grado in meno. Quindi a 170 gradi, 7-8 minuti ed è pronto. Quindi la mazzangola la puliamo, la visceriamo e la mettiamo come fondo. Vedi? Spegniamo. e andiamo a inserire il nostro ripieno. Poco. Perché? Perché gli andiamo a inserire l'altro mazzangolo. Certo, ma è proprio una piccola creazione, una piccola opera d'arte, Chef. Io ti ammiro e guardo e contemplo. Ma come dicono a Bergamo, è cinerio-vuzione. A Bergamo, Bergamo alto. È saporito-saporito. È cinerio-vuzione. Quindi, piccolo, ma bello. Lo andiamo a rivestire. Vedi? Questi qua si possono preparare anche il giorno prima, Mary. Però, invece dei gambili crudi, per sicurezza, andiamo a spadellare un attimino. Ti faccio vedere il risultato finito che mi sono preparato. Vedi? In questo caso, ho usato un simblatt in silicone. Quindi una forma in silicone a forma di cupola. Noi li inseriamo, ecco, dopo la preparazione? Con il forno. Questo lo inforniamo tutto. Mm-hmm. 180 gradi, 7-8 minuti, ed è pronto. Io ho preparato la cupoletta. Poi, vogliamo fare un cubotto, usiamo le forme a forma di cubo. Quindi, come ti piace, così lo serviamo. Mary? Sembra così semplice. È semplice. Ed è semplice. Però, bisogna dedicargli un po' di tempo al chef. Questo bisogna dirlo. Quindi, dovete avere la pazienza di voler preparare questa pietanza. Perché un po' di tempo necessita. Esatto. diventa anche un atto stesso. Noi lo regoliamo. È un modo per stare insieme alla famiglia. Ecco, magari un sabato sera, un mero di sera, dinanzi anche ad un film da vedere, abbiamo la preparazione di questi mini finger, che tra l'altro ci portano un gusto al palato, molto, molto raffinato, direi il chef Ferio. Ma al contempo è anche leggero, se vogliamo. È molto delicato. Abbiamo usato, guarda. L'opera d'arte continua. Abbiamo usato delle riduzioni di zucca, zucchine e pomodoro san marzano. Quindi, andiamo ad aggiare il nostro tortino. Come consigli di mangiarlo? Temperatura ambiente caldo? Caldo, bollente, appena esce. Lo andiamo ad accompagnare. Non finisce qui? No, guarda, che finisce qua. Con un po' di crauti croccanti, come abbiamo detto l'altra volta, semplicissimi da realizzare. Sono marinati, ma non cotti. e un po' di scarola che vicino al pesce non guasta mai, no, Mary? Allora, chef, mi ricordavi che se non avessimo il salmone affumicato possiamo scegliere quello fresco, ma la salmone fresco lo possiamo sostituire con dei filetti di pesce bandiera, pesce a sciabola. Lo possiamo sostituire con del pesce spada. Non sai che il pesce spada mi piace. Con una bella ricciola. Poi, ecco, se sapete sfilettarla sottili, va bene. altrimenti vi fate ruotare da qualcuno in pescheria, ci sarà sempre qualcuno. Tonno? Tonno è più difficile perché il tonno fresco si sfalda. Si sfalda, quindi riusciamo ad avere lo stesso risultato. Potrebbe risultare un po' più difficile nell'assemblare. Però poi andiamo a completare con delle mandorle tostate. Tostate. Wow, proprio un bel fiocchetto. Un filo d'olio. Mary, come detto, quattro ingredienti, ma importanti in questo caso. Vogliamo di poterle riuscire a realizzare un piatto egratante. Questa può essere anche una bella idea per le vacanze natalizie, per le scene che si faranno sotto Natale. Un piatto nobile, elegante, raffinato, che sicuramente susciterà stupore al commensale e nell'occhio, proprio visivamente, impattante, ma anche come bontà. Ma guarda, lo si può completare, tipo, dare un'idea, una zeppolina alle alghe sulla crema di zucchine, un gambero pastellato sulla crema di zucca, ma andrebbe bene anche una mozzarella impanata, una mozzarella impanata con un pane pacco, bello croccante, sul pomodoro, quindi abbiamo creato un bel antipasto pronto già per le feste natalizie. Pronto per le feste natalizie, però questo è proprio un antipasto stile mangiando sul serio. Ma diciamo di sì, diciamo di sì. Ricordiamo che sui ristoranti mangiando sul serio si trovano non le due passi da vulcano buono perché in realtà questa creatività esplode proprio nel tuo ristorante, Chef Reo, tutto quanto l'hai detto. Sì, diciamo, questi sono piatti creati per l'esigenza dei miei commensali perché mi chiedono dei piatti leggeri ma con ingredienti importanti, quindi cerco di realizzarli in questo modo. Il gambero rosso di Mazzara per esempio si può mettere all'interno, possiamo mettere una bella coda di scampo tirata in padella sale e pepe, a voglia, frutti di mare, a voi la fantasia, a voi la fantasia veramente, lo possiamo decorare e farcire come vogliamo. Vista l'idea troviamo subito la soluzione. Li percorriamo velocemente perché è una ricetta interessante. quindi mazzangolle, zucchine e patate. Abbiamo rosolato, abbiamo grigliato le fette di zucchine giusto per ammorbidirle, per foderare il nostro cestino. Dopodiché abbiamo spadellato in padella con olio extravergine, senza aglio, senza peperoncino, patate e zucchine. Giusto croccante, giusto quella cottura delicata. abbiamo farcito il nostro tortino mettendo prima una mazzangolla bella scusciata all'inizio in modo che quando l'apriamo la prima cosa che incontriamo è la mazzangolla. Poi facciamo uno strato di verdure, quindi patate e zucchine e la andiamo a chiudere con un'altra mazzangolla. L'abbiamo foderato? Foderiamo tutto, chiudiamo, forno prescaldato, 70-180 gradi, 6-7 minuti, lo serviamo caldo, le riduzioni se le vogliamo mettere ci sta bene anche una bella panna acida, fantastico sotto, un po' di misticanza croccante e poi abbiamo questa pioggia di mandorle tostate. Mandorle tostate, ma se possiamo mettere qualsiasi cosa, una granella di pistaccio che è di moda ultimamente. È vero, insomma. Lui la cosa che mancherebbe, guarda, una fogliolina di menta così all'apice qui. All'apice proprio in vetta. per ricordare la freschezza, il pesce, il salmone, basta. Ma se non ho detto che sei bravissimo, ceffero, tutti i santi giorni, in questo caso mi ne pidi complimenti perché è un bel piatto. Grazie. Un tripudio di bontà, un tripudio di sapore ma anche di bellezza, insomma, da provare, da replicare nelle vostre case, nella vostra cucina perché sicuramente l'effetto wow sbalordirà i vostri commensali. Quello è sicuro. Intanto, ceffo, nel caso non avessimo voglia veniamo a trovarti al ristorante mangiando sul serio perché davvero la degustazione e la creatività la fa da padrona. Grazie a Chef Ferio, grazie davvero. Buon appetito a tutti. E noi ci ritroviamo sempre puntualmente nel Cucinando con MD tutti i giorni verso le 12.50. Intanto, buon proseguimento di giornata, baci di Mariù. Ciao.